Ehi la turma! Io sono Malzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures! Uno degli ultimi tra l'altro. Ci troviamo oggi qui a... fare ancora qualcosina. Allora, nel frattempo ho fatto un po' di prove di... Scusate, ma è un po' tutto bugoso. Spero che non mi dia fastidio. Vabbè, comunque, ho fatto un po' di prove di registrazione e spero che oggi con il programma diverso, l'impostazione che ho cambiato, collegamenti diversi e anche tra fili, USB 3.0 eccetera eccetera, funzioni, non si bughi, non finisca troppo presto. Forse la qualità sarà diversa, ho dovuto cambiare un po' di cose anche in Spore. Spero che tutto vada finalmente per il verso giusto. Ci sono stati alcune volte dei glitch grafici e spero che in questo caso non succederanno. Controllerò quando ho finito il video. Io ho fatto delle prove, non è successo niente, comunque... boh. Ho accumulato un po' di soldi, ho sistemato un paio di pianeti. Per esempio, ho fatto, se non ricordo male, un T3 da queste parti, forse sì, questo Isold, per avere anche dei blu, perché avevo bisogno di un po' di spezie blu da commerciare. E cos'altro? Appunto, ho fatto degli altri... cose di commercio, ma niente di che in particolare. Ho ripreso gli alleati, sono praticamente gli alleati quelli intorno che avevamo già, sono semplicemente dato a dirgli, ehi, datemi un'altra nave perché l'altra si è distrutta. Ho anche indagato su quello che era... ecco, no, appunto, adesso non lo vedo sto discorso qua. Porca la pupazza! Allora, aspetta, faccio solo una cosa... Ok... vediamo se funzeca... ok... non ti attivare... ok... la mia collezione, forse qua... sì, dovrebbe esser qua i badge, le medaglie. Allora, l'altra volta avevamo parlato di una cosa molto strana, che avevamo visto, era il sognatore, scopri i pianeti storia. Allora, ho guardato su internet, ci sono dei pianeti storia, che appunto sono... forse una decina in totale, o qualcosina di più, ma sono generati randomicamente... di volta in volta. Quindi bisognerebbe andare, entrare, vedere... solitamente solo ti trema, non è detto. Quindi entri... tra l'altro devi entrare nell'atmosfera del sistema perché te lo... consideri, quindi devi entrare qua, a vedere se per caso ti dà l'achievement, poi se non esci... eccetera eccetera. Quindi mi sembrava un discorso abbastanza poco sensato. Cioè, fare una caccia all'achievement del genere potrebbe richiedere troppo tempo perché... cioè, guardate quanti cavolo di pianeti dovremmo poter esplorare. Cioè, potremmo dover esplorare. E quindi è un gran bel casino. Invece le altre... Oddio, ci stanno saccheggiando il pianeta Mirillo. Andiamo a Mirillo. Sì, arriviamo. Arriviamo! Mirillo. Viecca, viecca! Che ti bruciamo la faccia. Sì, perché ho dovuto sistemare un po' di cose. Adesso sto giocando con il... Spore è ridotto a finestra e non a schermo intero perché era un po' un cazin. Sì, è lui. Ciao pirata. Altri pirati sono qua. Adesso andiamo a menarli, di brutto. I ladri non saccheggiaranno più la colonia. Per fortuna. Allora, commercio. Vediamo se volete comprare qualche cosa a buon prezzo. Niente. Noi di verdi siamo pieni, quindi GG. E ce ne andiamo. È stato un piacere. Chi arriva? Tempo che vuole. Vorranno vendermi qualche sistema probabilmente. Sì, ma adesso non mi interessa. Vabbè, ciao. Sì, grazie. Vi dirò. Voi compro il nostro sistema. Costa solo tantissimo. Ok. Il discorso era, le altre medaglie invece che potremmo fare sono... Difendi gli amici? No. Porta una creatura alla fase tribù? Potrebbe essere una cosa interesting. La missione di miniazione? No, mi piace. Trova i manufatti? Eh, i manufatti. Ecco, potremmo andare a cacciare i manufatti e venderli. Stringi 10 alleanze per ottenere l'ora di probatico 4. Prevende i 25 disastri ecologici. Missione e spedizione. Prova 500 sistemi solari. E possiamo fare questa e l'altra insieme. 200 strumenti. Possiamo anche farlo. Tanto abbiamo un fracco di soldi. 48 commerciali. Ci si arriva. E3 contatto con 50 imperi. Vabbè, c'è tante ecosistemi. 6 guerre. Scoperte cosmiche. Vabbè, allora andiamo a esplorare qualche sistemino che ancora non abbiamo esplorato. Quindi a vedere se per caso troviamo degli artefatti interessanti. Allora, di qua ci siamo andati. Andiamo a vedere questi sistemi qua. Allora. Papapero. Qua non c'è niente di particolarmente interessante. Che se gli impero minor mi diranno semplicemente Ehi, compra il nostro sistema. Non ancora, dai ragazzi. Cioè, magari più tardi quando c'ho voglia passo. Ma adesso niente di che. Uh, tra l'altro c'è un T0 con una viola. E là c'è un... Una fase 3V degli animali. Non lo so. Non ho guardato bene. Allora, qua non c'è un Kaiser di niente. Stiamo esplorando un po' così randomicamente adesso. Quello di qualcuno. Ma andiamo a esplorarlo lo stesso, tanto per. Ciao, impero Peter Griffin. C'è un'altra trasmissione dall'impero me. Che sarà sempre perché mi vogliono vendere il sistema. Trasmissione... Ma Librena dov'è, scusate? Eh, laggiù. Ciao, saranno i Grox probabilmente. Non scusa a farci. Bello. Allora... No, andiamo qua. Prima quello non l'abbiamo mica esplorato. Vediamo se c'è qualche pianeta disabitato che emette segnali. No? Perché tra l'altro mi pare che se per caso il pianeta è abitato non puoi raccogliere gli artefatti che ci sono sopra. Oh, ma non troviamo più artefatti? È possibile. Adesso che mi hanno detto Eh, andiamo a catturare tutti gli artefatti del mondo possibile, immaginabile. Visto che sto registrando con l'OBS dovrò fare attenzione al minutaggio perché se già di solito sforo e ho l'affare proprio fisicamente ovviamente l'overlake che mi dice da quanto sto registrando qui non mi dice proprio un Kaiser quindi... Ah, qua c'è qualcosa. Sì, ok. Siamo pieni di... di gente che vuole roba. Ah, ok, l'ho vista. Collezionista 3 Ok, no, che devo 5 Collezionista 3 lo andiamo a vedere qua se per caso c'è qualcosa di... nuovo da prendere non c'è un Kaiser però abbiamo esplorato un sistema in più se non altro poi andiamo a vedere qua, dai nei dintorni sempre nostri che tanto dovremmo tornare qua c'è qualcosa dovremmo tornare a casa ho preso dei danni perché cosa ho preso dei danni? Ah, forse perché sono sceso troppo vicino alla superficie prima mi sarà caduto un kratte un asteroide un qualcosa in testa la stiva è piena oh porca di una miseria ehm devo fare un po' di pulizia vediamo un attimo cosa abbiamo allora una piccola una media e una grande una piccola una media e una grande una piccola che abbiamo visto prima una media e una grande ok animali cosa abbiamo? allora onnivoro erbivoro 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 onnivoro onnivoro erbivoro erbivoro niente siamo giusti così dobbiamo andare a vendere la roba allora attento sappiamo che qua allora andiamo a vendere a qua i peter griffin quella a fare là magari non me la pagheranno tanto ma almeno ci liberiamo la stiva perché è davvero molto piccola la stiva se vogliamo essere sempre pronti a sganciarvi la roba sì me la pagherò niente dov'è che eravamo? qua forse? sì credo di sì non ne sono sicuro ma credo fossimo là perché c'erano sì c'erano due pianeti in quel sistema quindi è probabile che sia quello ok prendi e vendi nautilo essiccato pietrificato ah è un fossile raro ne ho qua che tra l'altro non l'abbiamo esplorato così ne approfittiamo anche per vendere ne ha un discreto sistema anche questo ciao imperminor commercio 45.000 va già meglio avete volito anche della spezia per caso? no si guarda di là perché c'ho di là il foglio per chi non lo sapesse in cui ho tutti i prezzi delle spezie qua non c'è niente quindi torniamo in la casa a riparare un po' la nave vediamo se prossimo giro magari faremo un po' di acquisti di sistemi perché tanto di soldi di solito c'è una cosa di cui vorrei discutere sta roba qua ok i grox dove stanno attaccando dove stanno attaccando i grox eh laggiù ma che scusate ragazzi ma non è che posso difenderle tutte cioè a me un po' dispiace perché le ho create e abbandonate la loro stesse in pratica come colonia c'è qua ci sono degli anim male small bird e sono a fase 3 io vado a prendere il coso che c'è qua però mite tra l'altro stanno distruggendo ebbè quello che dovevamo fare con i grox l'abbiamo fatto questo è un tomo può darsi dietro della forza volume 1 che andiamo a vendere all'impero me speriamo che ce la comprano no si ok ci sta guardiamo qua che bella conformazione galattica mi piace ci sono altri sistemi qua questo questo me lo segnala la cometa ma non possiamo andarci sopra ovviamente poi c'è un altro sistema vicino con della gente che è la fase 3 tra l'altro però vivono su un T2 scusate guardo solo da quanto stiamo registrando ok 13 e 42 ci sta uuu ottimo quindi in realtà ho un orologio qua al polso potrei effettivamente controllare ok più o meno quando sono meno 10 poi devo staccare prendilo ok libero della scienza che andrei a vendere a qualcuno a sto punto ma anche a loro loro sono human no chi sono loro sono sempre impero me gli human sono quelli rossi se non ricordo male commercio tiene questo 45 mi sta scappando l'affare il tappetino del mouse porca la pupazza 48 no posso vendere la fine 58 questo 14 no 17 44 però ci sta tieni tutta la spezia rosa che abbiamo poi andremo a ricaricarci un po' facciamo un paio di giri poi andiamo a ricaricarci di spezia rosa e gg allora qua niente andiamo ancora a vedere questi due qua e poi qua non c'è nulla qua c'è impero vabble che però non ha niente di interesting da donarci tra l'altro impero vabble su questi che sono di qua non erano i rossi human erano quelli arancioni allora andiamo a recuperare un po' di spezia rosa che non ricordo assolutamente dove tenessi forse era quassù un sistema rosa questo berro sì ma ce n'era almeno un altro oddio mozus kings è di nuovo sotto problemi allora dobbiamo andare a salvare mozus kings la spezia rosa può aspettare ma mozus kings no anche perché magari così ci potenzia anche la questione del salvataggio dei sistemi solari che c'è una medaglia anche per quello degli ecosistemi ah e mozus kings tra l'altro dà anche la rosa ecco chi era l'altro con la rosa ottimo così abbiamo unito due cose non so se l'ho preso ok primo andato per un altro qua due ok di qua l'ho visto due perfetto ok volete no pagherebbero 6.000 la rosa però possiamo avere di più e altre rosa non ne abbiamo credo no forse abbiamo comprato qualcosa di recente che avevano della rosa akira akira qua della rosa forse l'avevo sistemato lo scorso no forse l'ho sistemato mentre non non c'eravate nel senso che off camera tra le altre cose ho fatto anche questo sistema forse o l'ho sistemato comunque molto comodo ma dovrei metterci un deposito di spezia così almeno ne tiene 30 e possiamo raccoglierne 90 a botta che è una buona cosa adesso dovrebbe tenere come massimo 30 esatto tra l'altro dammene un po' e non so se ce n'è altri in giro però ah qua c'è uno che potremmo utilizzare effettivamente con la spezia rosa ma non è ancora nostro e compriamo questo dai già che ci siamo così incentriamo il nostro allora qua hanno un t1 e basta quindi direi che per un milione va bene ok acquistato ottimo ah ne hanno fatto un altro là però che ha della spezia viola io andrei a fare una rotta commerciale subito con questa cioè viola della rosa ecco quello che volevo dire diplomazia una rotta commerciale ok e poi andrei a comprare questo e fare la rotta commerciale con l'altro cos'è che hanno qua un t0 eh per niente te lo compro ottimo e vado a fare una rotta commerciale appunto con quello che hanno qua sotto così evitiamo anche che si espandano troppo i minor una rotta commerciale ciao ok adesso direi che i 20 minuti sono stati raggiunti e anche superati se non ho calcolato male io torno qui verso Tarantella il nostro pianeta Tarantella e vi saluto vi invito a lasciare un mi piace scrivervi se per caso non l'avete ancora fatto lasciare un commento e noi ci vediamo nel prossimo video di Spore ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti